ragazzi ecco a voi sasha una femmina di cane corso ha soli due mesi ed è 7 kg eccola qua guardate ammirate tigrata occhi azzurri uno splendido cane bellissimo sasha guardate i suoi denti i suoi denti fa paura solo a vederla ma dentro un cuoricino bello tenero guardate qui com'è bello è molto amichevole guardate qui che fa con la mia mano che io sono il suo padrone bello è ciao ciao guardate come è tenero non vi piace? che giulino oggi no